Completata la preparazione con la seduta di rifinitura di questa mattina, la comitiva Maranto è partita alla volta della campagna. A Castellammare si annuncia una gara difficile, le Vespe fanno parte del gruppo di squadre favorite per la vittoria finale. Non è un mistero che la società giallo Blu credesse nel ripescaggio in Serie B. La regina è consapevole delle insidie del match del Romeo Menti, con un problema in più, l'assenza in panchina di Francesco Cozza squalificato per un turno. Sul piano tattico non dovrebbe cambiare molto, il tecnico Maranto si affida a un gruppo ormai consolidato e schierato col modulo 4-3-3. Al di là di qualche elemento chiamato a tirare il fiato dopo la fatica infrasettimanale con il Barletta, l'undici titolare non dovrebbe discostarsi molto da quello che è sceso in campo mercoledì al Granillo, pareggiando con i Pugliesi. Un calabrese sulla panchina della Juve Stabia e l'ex laziale Pippo Pancaro al primo incrocio da tecnico contro gli Maranto, che è incontrato diverse volte da calciatore. Capitano dei Campani è invece il regino doc Fabio Caserta. Tra i precedenti merita di essere ricordata una finale dei play-off di Serie C nel 93-94, che si concluse con l'eliminazione della regina. A dirigere l'incontro Sarappe legati della sezione di Arezzo.